le notizie di oggi venerdì 9 agosto ben trovati i carabinieri di marzocca coadiuvati da quelli della stazione di senegallia hanno eseguito tre fermi di indiziati di delitto nei confronti di altrettanti componenti della famosa banda dell'audi a4 nera che imperversavano nella provincia di ancona da tempo ea cui erano attribuiti numerosi furti in abitazione recuperata refurtiva rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso sequestrata l'autovettura i tre pluri pregiudicati sono stati tradotti presso la casa circondariale di ancona montacuto torna a senegallia la fiera campionaria il servizio dal 19 al 30 agosto a senegallia in zona stadio comunale la 23esima fiera campionaria di sant'agostino oltre 100 gli espositori di cui 50 provenienti dalla provincia e circa il 79 per cento dalla regione questo ci permette di amplificare un periodo di grande difficoltà la presenza però di aziende che investono con le loro esposizioni con i loro prodotti in una in una location che è quella del centro nell'ambito di una manifestazione che vede nel mese di agosto la partecipazione come sapete già da adesso con la festa del summer jamborie abbiamo una mese di attività molto intensa e questo ci permette di essere a fianco alle aziende che soffrono fortemente della situazione economica ma che investono pur di presentare le loro produzioni i loro servizi e questo per noi di grande gratificazione tanti settori merceologici rappresentati in particolar modo quest'anno ci sono dei focus importanti sull'outdoor e quindi tutto quello che riguarda l'arredo da giardino e quindi l'arredo degli spazi esterni una sezione particolare per i rivestimenti innovativi sia di pavimentazione sia da interno che da esterno con dei partner nazionali e una sezione relativa alla green economy e alla e mobility e quindi tutto quello che concerne alla diciamo alla mobilità sostenibile alle bici elettriche alle auto elettriche insomma questi settori innovativi sarà in vendita a partire da domani sabato 10 agosto nelle librerie del centro storico di senigallia il catalogo della mostra sotto un'altra luce antologia di opere restaurate dal territorio curato da claudia caldari ed eros gregorini il catalogo introdotto da un saggio critico di claudia caldari racconta la mostra organizzata dal comune di senigallia diocesi e soprintendenza per i beni storici artistici ed etno antropologici delle marche speciale summer jambori vediamo nell'intervista di oggi scopriamo e conosciamo meglio un altro artista che si è esibito al festival di quest'anno jackson sloan viene dall'inghilterra ed è alla sua prima esperienza al summer jambori prima volta anche in italia no sono già stato qualche volta in italia a milano e anche in altre città negli anni 80 e 90 e cosa le sembra del nostro paese nota dei cambiamenti rispetto all'ultima volta che è stato qui no italy has a big history in l'italia è sempre un grande paese ricco di storia questa caratteristica le rimarrà sempre la gente qui ama il buon cibo la buona musica e il divertimento inoltre a proposito del summer jambori l'evento voluto da angelo ormai è diventato così importante che la gente viene qui da tutto il mondo pur di vedere senigallia e ascoltare questa musica sembra che molte persone appassionate a questo genere a questo stile si siano avvicinate ad esso proprio attraverso i genitori o comunque da giovani certo certo e l'altra cosa interessante della musica degli anni 40 e 50 è che oggi è suonata da artisti moderni che la contaminano con un sound moderno quindi è come se evolvesse continuamente e la cosa è tutt'altro che negativa il summer jambori è anche su internet all'indirizzo www.summerjambori.com e su facebook basta digitare summer jambori e cliccare sulla pagina ufficiale per gli approfondimenti e gli speciali realizzati da gallica multimedial www.newsmarket.it la sedicenne giocatrice senegalese francesca giuliani attualmente classificata 3 1 ha raggiunto la finale del torneo open nazionale da 800 euro di montepremi organizzato sui campi del vivere verde dall'autosalone click art francesca è stata capace di battere due giocatrici classificate 2 7 rispettivamente nei quarti e nella semifinale ha perso poi in finale con la testa di serie numero 1 coetanea del ct faenza alessia ercolino anch'essa con classifica 2 7 è tutto grazie per averci seguito grazie per averci seguito